Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su FreePixel per un nuovo video Allora ragazzi la prima cosa che devo dirvi è che oggi finalmente ci vediamo in live alle 15 per l'apertura, la riapertura del nostro Pryson Era ora, è stato chiuso parecchio, tanti di voi volevano il Pryson per una correttezza più che altro delle persone che stavano giocando là e che avevano preso qualche pacchetto VIP Aveva senso rimetterlo online, non farvi aspettare più Sarà un old Pryson, quindi nel mentre noi lavoriamo al Pryson successivo, quindi a la nuova versione dell'acid Pryson Del Pryson in verità non credo sarà un acid, abbiamo rimesso online l'old Pryson, l'old vecchio dello scorso Pryson Un modificato, ovviamente ci sono diverse aggiunte, c'è un fix l'economia E sarà disponibile, tutti i pacchetti VIP verranno ridati Quindi oggi alle 15 se volete saremo in live per l'apertura del Pryson Detto questo, volevo portarvi nella survival, non tanto per vedere la nostra base Quanto per andare a vedere le basi degli altri ragazzi, anche perché questa non è progredita particolarmente tanto Quindi faremo un tour più che altro delle altre basi per vedere un po' anche cosa stanno costruendo nelle altre parti della survival Perché io conosco solo questa parte E quindi ragazzotti, detto questo, slash game mode spectator E ci iniziamo, visto che siamo invisibili, a tippare slash TP da qualche giocatore Vediamo un po', questo è un primo insediamento che troviamo Però molto, un primo insediamento vicino Beh è bellino, non so se sia Epic World Generator a generare queste cose o meno Mi suona il telefono, non dovrebbe Sì no, penso sia Epic World Generator a generare queste Wow, e quindi questo è un piccolo piccolo insediamento, un incipit diciamo di survival E qui ne troviamo un'altra di casetta Con una farm di canne da zucchero Una zona qua e una parte sottostante Con, eccolo qua Qualcuno che inizia ad incantare i propri Sfoglia il libro e inizia ad incantare i propri materiali Anche a maturare nelle ride, ovviamente completa Quindi direi molto bene Ci possiamo spostare a quest'altra di abitazione Che è circondata dal bambù Dentro c'è un'armatura In verità si passa, si entra da sopra E si scende, c'è un bel portale del Nether Scusatemi Qui c'è tutto il magazzino, tutto lo storage Qualche armatura GG Ci sta, è carino come concept Anche il fatto Oh, qui aveva un'altra zona degli incantamenti Ok, piccola E qui si, ah sì, qui si sale C'è questa piccola zona con la montagnola Qua c'è un'altra base Che porterà probabilmente alla miniera Invece no Ha una base sotterranea Una base sotterranea per cui si sale A tutte le coltivazioni Interessante Con la base alto Oh mio, wow, che figo GG È completamente senza Senza finestre Wow Strano, particolare È completamente all'interno della montagna Questi saloni così Uno sopra l'altro Eh, GG Ci sta Non è, non è male Con Ok, qui c'è l'entrata Effettivamente Poi si scende ancora E si arriverà esattamente Allo strato minerario Per Questo serve per salire o scendere Non mi ricordo Penso per scendere Qui si arriva A tutta la parte Di scavo minerario Per Per andarsi Questo tunnel In verità Non è che serva più di tanto Ci sai di scordare la razza Ok, GG Nice Possiamo ritornare sopra Continuiamo Il nostro percorso Qua sotto In Uno spawner Di ragni Enorme Con non so quanti ragni Eh, penso Molti 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 Con diverse ceste Qui per Per storare I drop Nei nostri Mob Altra casa Qua per noi Sempre Vetro E legno Interessante Il fossato E come non Prenda fuoco la casa Col fossato Il lava Qui c'è una Bellissima Piantagione Di Patate Credo Un cano Scale Carine le scale Fatte così Sono fighe Ci stanno Qui il magazzino Di qua Parte degli enchant In fase di Costruzione Scopertino Terrazzino Probabilmente da Completare E di qua c'è il portale Del nether Ok, qua siamo davanti A due belle basi La prima Qua sotto Si scende Tutta in vetro Circolare Con un acquario Ancora credo Da completare E in fase di allestimento Sostanzialmente Magazzino Però è GG È molto Molto bella Ne ho viste diverse Così Diciamo Su Internet Girando Fighe Fighe Mi piacciono Mi piacciono Un sacco E poi ce n'è un'altra Incastonata All'interno della roccia Anzi andiamo a vedere Prima Queste due abitazioni qua Credo siano due magazzini No Una nostalla Con le pecore E invece questa è Una coltivazione Ci sta Con un sistema di coltivazione Carino però Tutto molto molto Assettato Mi piace E entriamo qua dentro Andiamo a vedere la casa qua Ok GG Già con un bel magazzino All'ingresso Un sacco di roba nella shulker E poi si scende Probabilmente Si andrà in miniera Esattamente Sì Questa credo sia proprio La miniera di qualcuno Sì Che prosegue verso dritto E poi A sinistra e a destra Per diversi diversi blocchi Va bene ragazzi Sono tornato all'hub Giusto per fare un salto A questo punto Sul Pryson Per farvi rivedere Quello che era Il Pryson Hop Non so se cambieremo Il L'avatar No L'avatar no Acid No E torneremo Questo Comunque sarà Un old Pryson Ricordatevelo Slash Sì A posto Slash Pryson Così Ah no È spento il server Non ve lo posso far vedere Saranno allora Sistemando l'ultima parte E sicuramente Resettando Il Tutti i salvataggi Per cui ovviamente Ripartirà da zero Verranno come ho detto Ridati tutti i vip A quelle Alle persone che ce l'avevano Tanto sono salvato il database Non dovete fare niente Se avevate il vip Entrate e vi trovate il vip Facile Quindi ragazzi Non mi resta che darvi appuntamento Oggi pomeriggio Alle ore 15 Quindi tra praticamente Pochissimo tempo Tra un'ora Ci vediamo in live Per l'apertura del Pryson Mi raccomando Oggi Poi mi Voglio darei un feedback Poi da voi Sull'economia E sull'economia dei token Soprattutto Nel Nel Pryson Perché è stata fatta dal sottoscritto E Boh Non è che io Ci ho messo una certa logica Speriamo Vi piaccia Io Ce l'ho messa Ce l'ho messa tutta Ci proviamo Vediamo che cosa succede Mi raccomando ragazzi Non mancate oggi Alle 15 Per l'apertura Del Pryson Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti